E vi presento subito il nostro primo relatore di questa seconda sessione che è Marco Papassidero. E' un membro del programma di ricerca del progetto di Montalati, si è addottorato in storia delle forme culturali euromediterranee presso l'Università di Messina, ha studiato la tradizione geografica dei furti sacra, vale a dire i furti di reliquie nell'Italia medievale, ha partecipato alla didattica per le cattedre di storia della chiesa e cristianesimo sempre all'Università di Messina e poi storia delle religioni presso l'Università per stranieri di Reggio Calabria. Dopo il dottorato ha vinto un assegno di ricerca presso l'Archivio Generale dell'Ordine dei Carmelitani per una ricerca sulla figura del Beato Rabatà. Tra i suoi interessi di ricerca c'è lo studio dei testi ageografici da un punto di vista letterario, ma anche come fonti per lo studio della cultura e della mentalità. Studia anche i rituali e le pratiche di guarigioni, specialmente in relazione ai santuari, e la relazione tra la medicina e il culto dei santi, il culto delle reliquie e le apparizioni mariane. Nel 2018 la sua tesi di laurea è stata premiata vincendo appunto il premio dell'Istituto Sangalli per le culture religiose e sempre la sua tesi di dottorato è stata pubblicata per la Firenze University Press nel 2019 con il titolo Translatio Sanctitatis, i furti di reliquie nell'Italia medievale. E' anche l'autore di un secondo volume, All'Audi Deo, Luigi Rabatà, tra storia, memoria e pratiche devozionali, uscito nel 2019 per le edizioni carmelitane. Oggi ci presenta una relazione intitolata Santi, immagini miracolose e reliquie nella commedia di Dante. Prego Marco. Allora, il titolo della relazione che presenta è Santi, immagini miracolose e reliquie nella commedia di Dante. Prima di addentrarmi diciamo in questa relazione volevo fare una doverosa precisazione relativa appunto al fatto che la mia frequentazione con la commedia, contrariamente a molti di voi, non è una frequentazione di lunga durata, quindi non sono uno studioso della commedia di Dante, però grazie appunto a questo simposio negli ultimi tempi ho avuto la possibilità di approfondire alcuni aspetti, alcune tematiche e soprattutto di cercare un punto di connessione tra la commedia, che è una delle cose più studiate in assoluto, e i miei interessi di ricerca appunto che vi ha detto Genni Ponzo precedentemente, in particolare l'interesse per i testi ageografici e per la geografia in generale. La ricerca che propongo è quindi una ricerca momentaneamente ancora in fieri, e quindi spero di fornire degli spunti interessanti, ma sarò anche molto contento di ascoltare vostre osservazioni e vostre indicazioni per migliorare, per approfondire ulteriormente il tema. Allora, prima di entrare nel vivo della questione, vorrei fare una piccola precisazione di carattere metodologico, ma soprattutto di finalità. Il mio obiettivo, diciamo, nella rilettura prima di tutto delle tre cantiche e nel tentativo di individuare sia un tema che potesse essere un pochino più originale, quindi potesse essere, su quale potessi dire qualcosa di originale, e soprattutto rileggendo adesso, dopo diversi anni, rispetto a quando le ho lette per la seconda volta, diciamo, durante gli esami universitari le cantiche, ho individuato una serie di elementi che hanno attratto la mia attenzione. Tra questi c'è sicuramente la presenza dei Santi nella commedia, cosa ovvia, cosa risaputa, e relativamente a questa presenza dei Santi, la mia riflessione, la mia attenzione si è collocata soprattutto su un punto, cioè sul nesso che c'è tra la presenza dei Santi nella commedia e la geografia e l'iconografia che ne deriva. Cioè la mia domanda sostanzialmente consiste nel valutare, nel cercare di capire come, dal punto di vista testuale, anche tematico, i Santi vengono inseriti nella commedia, come vengono, tra virgolette, richiamati nel testo, cioè come vengono inseriti da Dante e con quale concatenazione testuale, il riferimento in particolare alla geografia, al modo in cui i Santi vengono e venivano rappresentati. Per tentare di analizzare questi aspetti ho, prima di tutto, dovuto costituire un corpus, un corpus di Santi, diciamo così, presenti nella commedia. Ovviamente il mio corpus è composto sostanzialmente, o comunque il corpus che ho costruito e che ancora deve essere, devo dire, perfezionato, è composto prevalentemente, e è composto essenzialmente da tutti i Santi che vengono citati nella commedia. Per quanto riguarda gli angeli, ecco lì ho utilizzato subito una, ho utilizzato una discriminante per tentare di distinguere due tipi di figure. Da un lato ci sono appunto gli angeli che sono identificati, quindi gli arcangeli San Michele, Gabriele e Raffaele che ho incluso all'interno del mio corpus, mentre invece ho escluso, almeno momentaneamente, per non includere ovviamente tutto, e tutti i riferimenti invece agli angeli, per esempio i numerosi riferimenti nel purgatorio, ma anche nel paradiso, che non sono caratterizzati da un'identificazione precisa, quindi un angelo santo, giusto per intenderci, con un nome ben preciso. Non sono incluse momentaneamente nel corpus, ma anche su questo sarò curioso di sentire le vostre osservazioni, attualmente nella figura della Madonna, e nella figura, né altre figure che per come vengono inserite nel testo, per come vengono descritte, presentate, eccetera, sono assimilabili in un certo senso alle figure di santità. Penso per esempio a Beatrice, che dal punto di vista della presentazione, del modo in cui compare nel testo, ha molti punti di contatto ovviamente alle figure di santità presenti nella commedia. Fatta questa premessa, vi mostro questa piccola, diciamo, piccola statistica della presenza dei santi nella commedia. La presenza non è connessa allo spazio per il santo nella commedia, ma al numero di citazioni e di canti differenti in cui compaiono dei santi. Quindi il santo che vedete è più rappresentato, San Pietro non è, diciamo, particolarmente rappresentato perché ha decine e decine e decine di terzine che gli sono dedicate, ma perché in un numero ampio di canti compaiono dei riferimenti al santo e alle chiavi in particolare, come vedremo, di San Pietro, che sono l'attributo iconografico e l'elemento col quale Dante richiama questo santo molto più frequentemente. La mia riflessione, come dicevo all'inizio, è connessa in particolare a quelle che sono quelle che ho chiamato le strategie di riconoscibilità dei santi, ovvero come i santi vengono inseriti nella commedia e attraverso quale elemento questi vengono resi riconoscibili o comunque vengono presentati al lettore. In particolare questa riconoscibilità avviene attraverso due modi. Da un lato il nome esplicito del santo, quindi il nome del santo che ovviamente fa capire di chi si sta parlando. Dall'altro c'è invece quello che ho chiamato, rimando in assenza nominis, ovvero l'assenza del nome del santo. In entrambi i casi il nome del santo può essere, in genere lo è ma non sempre, accostato e affiancato da un altro, da uno o più elementi che sono dei attributi iconografici, quindi giusto per essere precisi, ad esempio le chiavi di San Pietro, la graticola di San Lorenzo, oppure un riferimento a geografico, cioè un riferimento un po' più ampio del semplice simbolo iconografico, del semplice attributo iconografico che fa riferimento appunto a un episodio della sua geografia. Questi stessi elementi, cioè l'attributo iconografico, il riferimento a geografico possono essere, anzi spesso sono presenti ovviamente, quando non c'è il nome espresso, perché appunto in quel caso sono l'unico elemento che permette di capire di chi Dante sta parlando o che almeno orientano la critica nell'individuare quel determinato personaggio. Qualche esempio rapido giusto per intenderci, questo tratto dal quarto canto del paradiso, un esempio in cui viene citato il martire San Lorenzo, in particolare in questo caso se fosse stato l'orvolere intero come tenne Lorenzo in sulla grada e fece Muzio alla sua manse vero. Il riferimento è al santo, vediamo che in questo caso compare il nome del santo e compare un attributo iconografico. Ovviamente, come dirò anche fra poco, questi attributi iconografici, come nel caso di San Lorenzo, è chiaro che fanno riferimento anche a un episodio della geografia, quindi all'episodio del martirio. Però la suddivisione che ho tentato di fare è tra elementi che sono prevalentemente diciamo iconografici, come la grata, oppure la craticola, oppure elementi che sono prevalentemente di carattere narrativo, di carattere ageografico, quindi questa è la distinzione. Ovviamente nessuno dei due è esclusivamente iconografico o esclusivamente ageografico. Un altro esempio è quello di San Nicola, San Nicola da Mira, che viene citato anche lui, in questo caso diciamo a metà strada tra iconografia e geografia, con un episodio ben preciso della sua tradizione ageografica, cioè, lo vedete anche nella raffigurazione, questa è una raffigurazione moderna del santo, il miracolo relativo alle tre giovani fanciulle alle quali San Nicola, con atto di magnanimità e di carità, dona appunto dell'oro affinché loro possano ottenere, possano avere una dote per sposarsi e quindi far sì che in questo modo non si debba attentare al loro onore, diciamo sempre seguendo strade non onorevoli appunto, ma che appunto possano sposarsi tranquillamente. Quindi Nicola interviene, San Nicola interviene e secondo la tradizione geografica, ogni sera dà lancio attraverso la finestra appunto quello che sarà poi la dote delle ragazze. Questo episodio, uno dei episodi cardine dell'esperienza geografica, della tradizione geografica di San Nicola, rimane poi all'interno della tradizione appunto e Dante lo riporta in questo che è l'unico riferimento a quanto mi risulta appunto di San Nicola nella commedia. Questo è un altro caso, San Giacomo il Maggiore, San Giacomo Apostolo, il famoso santo del santuario di Santiago di Compostela, in cui in questo caso come vi dicevo prima non c'è il nome del santo, quindi qui nel paradiso il riferimento che viene fatto è al barone per cui laggiù si visita Galizia, quindi manca il nome del santo ma c'è un riferimento che in questo caso potremmo definire paragiografico perché non è né a un elemento della tradizione geografica, almeno quella evangelica diciamo così, ma è un elemento della tradizione geografica medievale, ovvero la leggenda della trasfrazione, del trasferimento, del miracoloso trasferimento delle relipe in Galizia, in Spagna e quindi della miracolosa scoperta del sepolcro eccetera e del grande pellegrinaggio che fin dal Medioevo è attivo appunto verso Santiago di Compostela. E poi un quarto esempio in cui anche in questo caso è assente il nome della santa, Santa Chiara, ma con un riferimento ad un elemento cardine anche in questo caso della sua esperienza che è quello della regola, della regola legata appunto al ramo femminile francescano. Da queste riflessioni e soprattutto dallo schema che vi risparmio della presenza dei santi all'entrata della commedia, quindi dei numerosi santi che sono presenti, mi è sembrato di poter individuare tre gradi di presenza ovviamente tra virgolette del santo. Un primo grado che è il grado zero dal punto di vista testuale, cioè la presenza dei santi che vengono solamente citati per nome. Per esempio nel trentaduesimo canto in questo caso abbiamo Francesco Benedetto e Agustino, quindi una citazione che riporta solamente il nome del santo senza l'attributo, senza l'episodio geografico. Un grado uno che richiama la figura del santo riportando in qualche modo un riferimento a un attributo come alcuni di quelli che abbiamo visto nel caso di Lucia con riferimento ai suoi occhi che secondo me mi sembra appunto un rimando esplicito all'attributo per eccellenza di Lucia. E poi un secondo grado che invece indica una presenza forte, diciamo, dell'elemento geografico all'interno della commedia. Gli esempi che mi sembrano più rappresentativi sono forse, ma non sono gli unici, quelli di Francesco e Domenio che rispettivamente nei canti undici e dodici del Paradiso vengono trattati dal punto di vista geografico in maniera ampia, non li ho riportati per questione di spazio appunto per non riempire, per non essere troppo prolisso, però ovviamente tutti sappiamo che i due canti del Paradiso contengono sostanzialmente una piccola geografia di Francesco e una piccola geografia di Domenico. Dal punto di vista quindi tematico testuale si possono ritrovare una serie di strutture possibili relative appunto alla presenza di questi nomi di Santi, quindi nomi di Santi da soli in presenza di un attributo o di un episodio geografico o di un attributo iconografico o di un episodio geografico. La stessa cosa accade nel caso in cui il nome del Santo è omesso, in quel caso ovviamente serve per forza un attributo o un episodio geografico entrambi per indicare in qualche modo il Santo perché sennò ovviamente non è riconoscibile in alcun modo. Quindi dall'insieme dei Santi della Commedia mi dà l'impressione si possono individuare due gruppi diciamo di relazioni dei Santi appunto con l'ambito geografico. Da una parte i Santi in cui il richiamo nel testo comporta prevalentemente un elemento iconografico, quindi il nome del Santo accompagnato da un unico elemento in cui seppur questo elemento sia parte della tradizione geografica come dicevamo prima prevale la dimensione di attributo identificativo piuttosto che di dettaglio narrativo. Quindi nell'elenco che vedete sotto la presenza delle chiavi che richiamano nel testo spesso San Pietro, la graticola nell'unico richiamo di San Lorenzo, l'episodio delle tre fanciulle per San Nicola che è vero è un episodio geografico narrativo però l'ho inserito qui anche perché uno degli elementi che l'iconografia ha fissato maggiormente per San Nicola o ancora il maiale per Sant'Antonio Abate, l'episodio dell'annunciazione anche in questo caso un tema iconografico molto forte per San Gabriele eccetera. Quindi una serie di Santi che vengono identificati prevalentemente con un attributo e con un elemento chiave che li identifica e rimanda anche all'iconografia. Dall'altra parte invece un richiamo prevalentemente a geografico cioè il rimando a una serie di episodi utili per diciamo prelevati dalla sua tradizione a geografica, utili appunto per indicare in maniera chiara il santo e così abbiamo la lotta quindi riferimento alla lotta col drago all'apocalisse per San Michele, la visione di Dante del martirio di Santo Stefano in cui il martirio quindi ha una parte, un aspetto proprio narrativo e non sprettamente iconografico anche se c'è il rimando alle pietre o ancora il pellegrinaggio a Santiago di cui parlavamo per San Giacomo, San Domenico quindi riferimento all'eresia, al sogno presago per la sua nascita eccetera. Quindi tutta una serie di indicazioni utili per identificare il santo su base prevalentemente a geografica. Come vi dicevo appunto si parla più che altro di prevalenza di un aspetto su un altro perché è chiaro che l'aspetto iconografico è diciamo estrapolato dall'aspetto a geografico, pensiamo solo alla leggenda aurea medievale che è come dire l'enciclopedia indispensabile per la lettura di moltissime delle tradizioni, dei cicli pittorici, delle tradizioni iconografiche e che da quella tradizione testuale che è la leggenda aurea vengono appunto prelevati per le rappresentazioni. Un altro aspetto che mi sembra interessante, che mi è sembrato di poter cogliere è quello della presenza dei santi nella commedia però intesi in un altro senso. I nomi dei santi e diciamo la loro rievocazione attraverso il richiamo nel testo mi è sembrato possa, cioè avesse vari livelli, vari gradi anche in questo caso. Nel primo caso per esempio parlo di essenza del santo. Perché parlo di essenza del santo? Non perché il santo non venga nominato ma perché nel caso specifico di Santa Zita ma anche in altri casi non viene evocato con quel termine la santa lucchese della tradizione ma si fa un riferimento diverso, quindi riferimento alla magistratura di Lucch eccetera. Quindi l'elemento, il binomio, diciamo i due termini Santa Zita non descrivono in realtà la presenza di un santo anche se formalmente il termine è quello appunto che riguarda una santa. Un livello intermedio in cui c'è una presenza parziale. Perché è una presenza parziale? Perché Dante in realtà non non entra in contatto realmente con Lorenzo, nel caso, nell'esempio che vi ho riportato, ma il santo che viene richiamato nel testo viene richiamato solo come metafora. Succede sia per San Lorenzo, succede sia per San Nicola e per altri casi. Quindi il santo in questo caso è presente sessualmente, si fa riferimento al santo vero e proprio, contrariamente al caso di Santa Zita, ma non si fa appunto, diciamo viene utilizzato, viene costruito un paragone e non si intende entrare in contatto diretto con il santo. Invece gli altri due livelli che ho evidenziato presentano appunto i santi in maniera diretta. Nel primo caso il santo è presente e quindi Dante entra in contatto in un certo qual modo col santo, quindi il santo non viene rievocato solo come modello di qualcosa, quindi per una virtù eccetera. È il caso per esempio del riferimento a San Domenico e a San Francesco. Mentre invece un livello più forte, l'ultimo livello che mi è sembrato di poter riconoscere, è quello in cui il santo è richiamato nel testo come negli altri casi, ma questo santo possiede una concretezza ampia e soprattutto entra in contatto con Dante parlando magari con lui. Ci sono appunto alcuni santi che entrano in contatto direto con Dante e come sapete parlano con lui e altri santi che lui vede solamente non parlano con lui ma qualcuno gli parla di loro e via dicendo. Per concludere questo breve excursus, questa breve riflessione, questi brevi spunti sul tema dei santi e del modo in cui sono inseriti nel testo vorrei citare due elementi anche perché fanno parte del titolo della mia relazione che sono appunto le reliquie e le immagini miracolose che in questo caso però dobbiamo intendere insieme e che sono molto assenti all'interno della commedia, forse probabilmente per la loro dimensione diciamo materiale che nella commedia ha uno spazio almeno per quanto riguarda le reliquie e le immagini di questo tipo mi sembra abbastanza piccolo. I rimandi forti a oggetti miracolosi sono due e sono da un lato quello del santo volto che Massimo Leone ha già riavvocato prima leggendo anche le terzine interessate e dell'altro è quello dell'immagine della Veronica. Che cosa sono? Sono due reliquie, la prima si è già detto appunto è questa statua di cui vi riporto l'immagine soprattutto per gli studenti che ci stanno ascoltando che è l'immagine appunto, un'immagine secondo la tradizione di carattere miracoloso e che è conservata ed è tuttora a Lucca e che nel Medioevo era un'immagine molto importante perché era oggetto di grandi e importanti pellegrinaggi, il culto comunque si era diffuso in virtù di questi pellegrinaggi anche al di là di Lucca ma sulla via appunto sulla via Francigene ad esempio. Nel secondo caso abbiamo invece riferimento alla Veronica che secondo la tradizione è l'immagine che anche in questo caso diciamo secondo le crona che era custodita all'interno della Basilica di San Pietro almeno sembrerebbe fino al Cinquecento, comunque secondo la tradizione si tratterebbe di un'immagine miracolosa, dell'immagine miracolosa del Cristo, del volto del Cristo impresso appunto su una stoffa che viene utilizzata e qui rimando alla tradizione evangelica per asciugare il volto insanguinato di Gesù durante la via Crucis, durante la via Dolorosa. Queste due immagini dal punto di vista del richiamo testuale della presenza del testo sono due immagini però che appartengono possiamo dire a quel grado zero che abbiamo identificato all'inizio, cioè le immagini sono richiamate, quindi c'è sia il richiamo al santo volto, al volto santo, sia il richiamo alla Veronica. In realtà però non sono immagini che Dante richiama perché le vede o perché qualcuno fa riferimento a loro, perché vuole fare riferimento a loro come immagini miracolose eccetera, ma sono utilizzate in entrambi i casi, sembrerebbero utilizzate in entrambi i casi come oggetti metaforici, quindi come paragoni che vengono utilizzati. Nel primo caso quello del volto santo da quello che diciamo dalla posizione che mi sembrano avere i commentatori è prevalentemente legata all'immagine di un dannato che appunto viene rimproverato dai demoni perché gettato, perché appunto trovandosi appunto nel liquido infernale comunque a scontare la sua pena, tira fuori la faccia da questo liquido e loro gli dicono appunto qui non è il luogo, non c'è appunto il santo volto, il volto santo di Lucca, qui si nuota in maniera diversa dal serchio che è il fiume appunto di Lucca e perciò o bisogna tenere la testa giù o comunque probabilmente appunto questo è riferimento al fatto che la testa non dovesse essere fuori dall'acqua. Mentre invece appunto nel caso della Veronica c'è un paragone che viene fatto all'interno del paradiso e che serve semplicemente a paragonare il sentimento di stupore che si realizza pari a quella appunto dei pellegrini che magari dalla Croazia giungevano a vedere il santo volto, magari in occasione del giubileo ad esempio che tra l'altro il primo giubileo era stato nel 1300 indetto da Bonifacio VIII a Roma, giungono appunto a vedere questa importante reliquia della cristianità. Quindi concludendo, già il tempo è terminato, concludendo questo breve intervento, spiegando anche vostre riflessioni e consigli e indicazioni utili, i punti che mi sono sembrati interessanti da richiamare sono stati appunto il modo in cui questi santi, quindi la struttura testuale attraverso la quale Dante inserisce nella commedia e richiama questi santi e il nodo e le possibilità di relazione col tema geografico con l'attributo iconografico che si realizzano. La diversa presenza di questi santi, sia dal punto di vista della relazione con Dante, cioè quanto quel santo è realmente presente di fronte a Dante o quanto invece è soltanto una metafora, quanto invece la complessità di quel richiamo testuale, quindi nome del santo, attributi iconografico, episodio ageografico. La superflua a questo punto osservazione della scarsità di immagini miracolose, di reliquie, ci sono ovviamente riferimenti comunque a corpi, alla dimensione corporea eccetera, però non mi è sembrato di trovare appunto più di tanti riferimenti a reliquie di santi all'interno della commedia. E quindi alla luce di tutto questo mi sembra interessante poter considerare la commedia come un piccolo compendio geografico, cioè ovviamente la compendia è un grandissimo trattato di teologia, anche di scienza, di tante cose, ma mi sembrava interessante e utile porre l'accento appunto su questa dimensione geografica, su questi piccoli richiami alla geografia che ci sono nel testo e che permettono una piccola, una piccola, piccola, piccola leggenda aurea, diciamo, di conoscere tante tradizioni geografiche e raccontarla attraverso degli attributi e degli elementi identificativi. Grazie per l'attenzione. Passo immediatamente a presentarvi il nostro secondo relatore che è Francesco Galofaro, anche lui ricercatore all'interno del progetto Nemosanti. Francesco ha un dottorato in semiotica che ha ottenuto presso l'Università di Bologna dove ha studiato con Umberto Eco. La sua ricerca si focalizza sull'etnosemiotica, sull'epistemologia e sulla morfodinamica, che è un metodo che lui ha applicato anche allo studio delle strutture del testo litanico, quindi delle litanie. È autore di alcune monografie, è Luana Inglaro, pubblicato da Meltemi nel 2009, dedicato al dibattito politico, scientifico, etico attorno all'eutanasia e un altro volume suo si intitola Dopogerico, i nuovi spazi della psichiatria, pubblicato per Esculapio nel 2015 e anche co-editor di altri volumi, tra cui Morphogenesis and Individuation con Montanari e Sarti, pubblicato per Springer nel 2014 e Il senso della tecnica Saggi su Bachelard con Paola Donatiello e Gerardo Ienna. All'interno del nostro progetto si occupa specialmente della figura di Padre Pio, su cui posso anticipare che sta preparando una nuova monografia. Oggi ci parlerà di modelli di santità nella comedia, focalizzandosi sul caso di Pier Damiani. Grazie Francesco, ti cedo subito la parola. Grazie Jenny, spero che mi si senta e nel frattempo ho anche condiviso le mie slide, spero che si vedano. Sì, sentiamo e vediamo, grazie. Benissimo, allora grazie per questa presentazione. Come si evince, io non sono un dantista e mi sono chiesto quale può essere quindi il mio contributo come semiologo a una lettura di Dante nel corso dei 700 anni che ci separano da Dante. Ormai è stato detto qualsiasi cosa su quest'opera. Quindi sorbolo molto velocemente per dirvi che la mia intenzione di oggi è stata quella di fare una specie di piccolo esperimento e di fare della retrosemiotica e quindi di applicare quella che è la teoria della produzione segnica che è stata proposta da Eco nel 1975 al caso concreto del canto ventunesimo del paradiso per capire come Dante costruisce dal punto di vista semiotico questo canto. Ecco, perché lo faccio? Innanzitutto perché molti colleghi sostanzialmente dicono, tra di noi diciamo molto spesso, che questa teoria potrebbe essere impiegata utilmente per fare dell'analisi e quindi diciamo io ci ho provato ecco. E in secondo luogo perché la teoria di Eco sulla produzione segnica è una teoria molto molto generale che mi sembra però interessante applicare il caso particolare della commedia per i motivi che adesso vado a esporvi. Dunque, questo è uno schema riassuntivo del modo in cui secondo Eco nel 1975 noi lavoriamo sulle semiotiche quindi c'è un tipo di lavoro che viene effettuato sul continuum espressivo, c'è un tipo di lavoro che viene effettuato sui codici e un certo tipo di lavoro che viene effettuato sul continuum del contenuto. Un ruolo centrale, io qui purtroppo non posso presentare tutta la teoria, ma un ruolo centrale è occupato da quelle che vediamo qui, da questi giudizi semiotici, sono in realtà dei giudizi di carattere metasemiotico, cioè cercano di collegare il piano dell'espressione con il piano dei contenuti e da queste proposizioni che sono, possiamo chiamare appunto proposizioni occasionali o indicali o giudizi fattuali cioè un tipo di proposizione del tipo qui c'è X, qui sul tavolo c'è una penna, questo è un bicchiere ecco, proposizione eterna del tipo tutti gli X sono Y che esprimono una regola generale ecco, mi sembra piuttosto interessante andare a vedere come funziona questo modello nella commedia e se funziona, dato che nella commedia il mondo a cui questi giudizi fanno riferimento vediamo qui il lavoro sul continuum del contenuto, il rapporto espressione mondo, il rapporto emittente destinatario questo mondo non è il mondo della nostra esperienza quotidiana, non è il mondo della vita fenomenologico ma è il mondo del paradiso, cioè qualcosa che sfugge completamente alla nostra esperienza e secondo alcuni autori addirittura alla nostra capacità di comprensione razionale ecco, quindi quando Dante nomina qualcosa e dice qui c'è questo sta parlando quasi sempre di qualcosa che è assolutamente al di là di quella che è la nostra competenza comune quindi questo è il motivo per cui mi sembrava interessante applicare e fare un po' di retroseniotica e quindi riportare un po' indietro di 40 anni le lancette dell'orologio segnotico e andare a vedere come funziona quindi come fa Dante? in primo luogo noi possiamo parlare di un lavoro sulle figure visibili nel ventunesimo canto del paradiso noi abbiamo questa scala, la scala di Giacobbe questa scala che, come dire, la cui fonte è biblica è in questo sogno che fa il patriarca Giacobbe in cui non solo gli compare questa scala ma appunto Dio gli parla come vedremo più avanti ecco, in primo luogo Dante quindi descrive questa scala dentro al cristallo che il vocabol porta cerchiamo, cerchiamo il mondo del suo caro duce sotto cui giacque ogni malizia morta di color d'oro che in raggio tra luce vidi uno scaleo eretto in suso tanto che non seguiva la mia luce ecco, qui Dante sta descrivendo sostanzialmente il cielo di Saturno sta descrivendo un epiciclo così come lo si concepisce all'interno della teoria tolemaica quindi una grande sfera cristallina dentro il quale il pianeta in qualche modo compie la sua orbita intorno alla Terra ecco, come abbiamo detto, sono il sogno di Giacobbe in cui gli compare questa scala d'oro con gli angeli che salgono e discendono e Dio si rivolge direttamente al patriarca poi abbiamo, quindi Dante fa riferimento alla competenza enciclopedica dell'Eno abbiamo poi la regola di San Benedetto che è il santo che è un altro santo oltre a Piertamiani, il secondo santo che Dante incontra in questo cielo nel canto 22 in cui purtroppo non possiamo occuparci per motivi di tempo ma San Benedetto nella sua regola fa riferimento a questa scala che diviene il simbolo del percorso ascetico del monaco verso la virtù ecco, non se l'ha inventata San Benedetto questo è assolutamente tipico della tradizione monacale e addirittura possiamo ritrovare la fonte nell'interpretazione che Filone di Alessandria dà del sogno di Giacobbe il quale è definito da Filone di Alessandria un atleta delle virtù e i primi monaci ermiti di padri del deserto quel macario a cui fa riferimento anche Dante nel canto successivo riprendono esattamente questa espressione alla lettera anche loro si definiscono degli atleti ecco, una terza idea però ecco, io non ho la più pallida idea se diciamo Dante possa realmente avere comunque non posso provare che Dante abbia letto Origene e Contra Celsum ma voglio citarlo qui per un altro motivo voglio citarlo qui perché a mio parere Dante si differenzia dalla regola di San Benedetto e dalla Genesi perché ha l'idea che a me pare sorprendente di collocare questa scala che appunto è un simbolo di virtù è un simbolo, come dire oppure compare in un sogno collocarla all'interno del cosmo aristotelico ecco, a me sembra piuttosto interessante perché questa cosa non c'è nelle fonti che abbiamo citato fin qui cioè il fatto di collocarla esattamente nel cielo di Saturno quindi ho fatto una piccola ricerca sicuramente incompleta ma diciamo Origene è qualcuno che facendo riferimento a Celso che si rifà poi a Platone dice che questa scala potrebbe simboleggiare i sette pianeti e quindi i gradi che in qualche modo i gradi di separazione che distanziano la Terra dalla, come dire dalle stelle fisse quindi dall'ultima sfera ecco, e quindi anche da Dio c'è quindi un riferimento molto importante da una parte alla cosmologia e da un'altra parte anche a Platone ecco, e quindi c'è una nozione come dire che viene l'idea sorprendente di Dante è quella di però collocare questa scala precisamente nel cielo di Saturno e quindi entro questa cosmologia di carattere tolemaico con Aristotelico e tolemaica con gli epicicli ecco dal punto di vista semiotico questa sembra quella che ecco chiamerebbe una commutazione di codice che viene eseguita programmaticamente quindi c'è una proposizione occasionale una menzione apparentemente innocente che fa riferimento al rapporto espressione mondo però in forza di una presupposizione che fa appello alla competenza del lettore il lettore di Dante dell'epoca ovviamente Dante sovrappone due campi sematici quindi quello che esprime l'ordine cosmologico aristotelico e tolemaico da una parte e dall'altra il campo semantico morale quindi quello monastico e quello dei gradi di perfezione ecco quindi attraverso diciamo un procedimento non dichiarato e appunto innocente questi due grandi campi di significato vengono sovrapposti e possiamo guardare l'uno attraverso l'altro quindi questo è il tipo di lavoro semiotico che Dante compie qui ma anche altrove perché lo fa anche nel canto secondo dove Beatrice espone la teoria aristotelica e averroista del cosmo e la dottrina neoplatonica dello pseudio Dionigi Aeropaginta vado quindi avanti questo è poi il paesaggio visivo che Dante ricostruisce nel cielo di Saturno mi piace anche però ricordare che Dante in tutta la commedia come qui lavora anche molto sul sonoro e sul paesaggio sonoro del paradiso e in particolare come sappiamo bene questo canto è contraddistinto dal silenzio e anche il silenzio è qualche cosa che richiama l'atmosfera erenitica l'atmosfera monocale dei conventi ecco quindi sappiamo benissimo poi che secondo alcuni autori cito Carlo Sini qui abbiamo una concezione pitagorico-platonica delle sferi celesti e di quello che il loro suono potrebbe esserci un riferimento a un'opera molto fortunata nel medioevo che è il De Musica di Boezio e come dire e c'è anche un grosso contrasto intanto con alcuni canti come il canto ventitreesimo dove invece ci sono costantemente riferimenti a suoni e anche a canti noti come il Regina Celi e poi c'è anche un riferimento molto forte interno al canto che conosciamo benissimo perché questo è un cielo estremamente silenzioso ma il canto termina con un urlo ecco comunque vado vado avanti per mostrare appunto come la teoria di eco ci permette di collegare grazie a questi asserti metasemiotici che vengono affidati agli attori che descrivono quello che accade nel canto quindi a Beatrice a Pierdi a Damiani da un lato appunto l'opposizione suono e visione da un lato silenzio dall'altro a altre opposizioni come mortale e immortale e alla a una cratofania molte cratofanie diciamo che possiamo diciamo vedere nel canto vengono evocate nel canto folgori tuoni la splendore la bellezza ma anche il grido di cui parlavamo prima e dall'altro quindi la cratofania la manifestazione della potenza divina contraposta alla debolezza umana l'uomo viene paragonato a una fronda le sue facoltà visive e uditive non gli permetterebbero di sostenere appunto questa manifestazione di potenza divina ecco quindi questo è quello che che accade qui e appunto nel farciò Dante riesce a connettere questo livello cosmologico con il livello etico e morale ma vengo a Pier Damiani che il diciamo così vorrebbe essere l'argomento principale di questa mia chiacchierata sperando di avere ancora tempo Pier Damiani è una figura ambivalente nella nostra cultura ecco qui mi permetto di parlare della cultura contemporanea non di quella di Dante perché abbiamo da un lato i filosofi che lo considerano come una sorta di stereotipo nel medioevo più buio e più retrivo quindi con Etienne Gilson dicono che questo scrittore è un nemico della logica è un nemico dell'indagine razionale sostiene l'onnipotenza divina anche a scapito della logica stessa scrive trattati sulla fustigazione scrive trattati contro i sodomiti insomma se c'è un medioevo stereotipico Pier Damiani è il suo massimo interprete ecco questo giudizio questa condanna di Gilson poi si ha in tutti i trattati di storia della filosofia e si può ben capire qual è la motivazione visto che tutti questi filosofi cercano invece di dire che c'è un altro medioevo molto più ricco molto più interessante che non è appunto quello dei flagellanti ecco e invece Pier Damiani è un eroe degli storici perché è un grande riformatore e in qualche modo salva il papato da un triste destino in un'epoca in cui erano i principi romani a decidere chi doveva fare il papa è l'epoca della simonia è l'epoca della compravendita di cariche ecclesiastiche e di tutta una serie di altri diciamo vizi orribili contro cui Pier Damiani lavora anche politicamente e anche attivamente rivolgendosi per esempio all'imperatore quando abbiamo appunto lotte tra papa e antipapa perché l'imperatore ha l'autorità per convocare un concilio ma all'occasione anche prendendo invece le distanze dalla corte imperiale di Enrico IV quando è l'imperatore a voler arrogarsi il diritto di esprimere il papa vado avanti per dire quindi che sì è un modello Pier Damiani ma per Dante ma è un modello di cosa per capirlo possiamo fare un paragone Pier Damiani ritratto da Petrarca per il quale Damiani è una specie di cincinnato clericale nel senso che è un umile eremita che dopo essere stato non senza lode cardinale a Roma ritorna agli oziosi silenzi e quindi è un modello di umiltà ma per Dante invece è qualcosa di molto diverso certo è umile ma è anche appunto qualcuno che è anche un mistico è anche qualcuno che dà delle risposte di carattere teologico e vengono anche ripresi i tonni degli opuscoli del grande riformatore nella invettiva contro l'opulenza della chiesa a lui cioè contemporanea di Dante quindi vado avanti per dire che cosa che è la vita di Pier Damiani come qualsiasi vita non può essere intesa come un percorso narrativo coerente è piuttosto uno spazio semantico contraddittorio antonimico dentro al quale possiamo ritagliare dei percorsi di carattere coerente proprio come fa Dante cioè occorre capire lui è sia eremita sia cardinale usa la dialettica contro i dialettici quindi occorre prendere questa e dargli una forma a riportarlo a coerenza e questo è quel che fa Dante e in questo modo il santo diviene un modello ideologico quindi ha un tempo etico e politico allora io qui ho confrontato alcuni passi di Dante in cui Dante fa riferimento all'eternità della provvidenza alla predestinazione perché è questa la domanda teologica che lui pone al santo e come dire alcuni passaggi in cui Pier Damiani nei suoi oposcoli nelle sue lettere fa riferimento agli stessi agli stessi concetti quindi all'idea che Dio è coeterno il fatto di potere ogni cosa a questa concezione di Dio come qualcosa che sta al di fuori dal tempo e quindi al fatto che molte delle nostre domande sono costruite male opposte male nelle nostre questioni perché noi siamo dentro al tempo e quindi ecco poi vi è anche l'idea dei limiti della nostra comprensione il Pier Damiani dantesco risponde a Dante che su alcune cose è meglio non porre domande non domandare e anche Pier Damiani fa riferimento al fatto che alcune che perfino agli angeli anche la virtù angelica per quanto sia potente non lo è da se stessa ma da Dio e ai limiti di questa di questa della comprensione delle creature delle creature di Dio e infine c'è anche questa appunto questa idea del questa citazione di Pier Damiani che cita Salomone e dice non chiederti cose più grandi di te e non scrutare cose più alti di te a proposito delle questioni sull'onnipotenza di Dio che è più o meno la risposta che il Pier Damiani dantesco dà al Dante personaggio ecco mi scuso se vado anche qui molto molto velocemente mi piacerebbe stare qui e leggere questi passi con voi ma come dire non c'è non c'è molto tempo perfino nella invettiva che Dante mette in bocca a Pier Damiani c'è una analogia con quello che scrive Pier Damiani nelle sue lettere perché per Dante appunto Dante descrive San Pietro e San Paolo poveri e scalzi magri che vanno in giro e la stessa cosa fa Pier Damiani quando abbiamo il nutrimento e di che coprirci accontentiamoci di questo e Pier Damiani lo fa proprio in un contesto in cui condanna l'opulenza della chiesa e si rivolge in particolare a un suo confratello abate il quale aveva sviluppato un gran gusto per il vestire e quindi lo ammonisce dicendogli non montare dunque in superbia ma temi oh fratello carissimo disprezza le attrattive di ogni abbigliamento corruttibile disprezza le festose ondeggianti frange del tuo splendido abito e contento delle vesti più umili e vili sottomettiti alla legge della santa regola e sembra in effetti proprio di vedere questa figura che però è molto originale in Dante del diciamo del palafreno che ha due manti no no sì che due bestie vanno sotto a una a una pelle ecco quindi cosa succede succede che anche Pier Damiani anche Pier Damiani vengono affidati degli asserti metasemiotici e diciamo nel primo discorso di Pier Damiani quello sulla predestinazione si tratta di proposizioni eterne che riguardano il rapporto espressione mondo no in linea con la teologia mistica e abbiamo questa opposizione tra superbia e umiltà la superbia che è quella che contraddistingue l'umana volontà di sapere l'umana volontà di essere no nel caso di della chiesa corrotta che si interessa ai beni materiali agli abiti eccetera mentre l'umiltà dalla parte dell'umiltà abbiamo un'etica filosofica che è quella del non chiedere non porsi delle domande più ampie più grandi di sé e anche un'etica politica che ricerca la continenza la povertà ecco e la e l'umiltà no contro contro invece alla alla superbia ecco quindi noi abbiamo questa questa opposizione tra superbia e umiltà che funziona come un connettore tra diverse isotopie direbbe Grimas tra diversi livelli semantici tra diversi campi semantici quindi voglio dire se noi teniamo insieme il modo in cui Dante ha costruito l'intero canto i dati visivi i dati sonori le proposizioni che mette in bocca ai suoi personaggi e in particolare a Pier Damiani ricostruiamo quella che è la mappa semantica di questo spazio costruito da Dante messo insieme e riportato a coerenza e quindi abbiamo appunto il suono e la visione contraposto al silenzio l'opposizione mortale e immortale l'opposizione tra la cratofania e la debolezza umana e l'opposizione superbia e umiltà l'opposizione tra la superbia materiale intellettuale da un lato e l'etica filosofica e l'etica politica dell'umile e tutto questo concorre a saldare insieme quello che è il piano cosmologico dello spazio creato da Dio e quello che è il piano noologico ed etico in una concezione che non è soltanto del canto ventunesimo ma è quella di Dante e anche quella che a noi forse magari non appare più così contemporanea oggi in cui tendenzialmente separiamo la cosmologia e la noologia ci superiamo sostanzialmente la fisica il cosmo le nostre teorie sullo spazio e questo genere di indagini da quella che è la morale e la speculazione in campo etico e filosofico ecco qui invece vengono riportate a sintesi ecco quindi Dante costruisce il modello di santità di Pier Damiani come una sovrapposizione tra i piani filosofico e politico grazie alla virtù dell'umiltà che permette la commutazione tra i due e quindi esprime un modello su un piano noologico però questo Pier Damiani modello di etica è poi comunque collocato e sovrapposto all'interno di questa incredibile cosmologia che viene costruita e in questa sovrapposizione che caratterizza più in generale la cantica del paradiso vi ringrazio mi spiace se ho dovuto correre mi rendo conto di essere stato estremamente confuso però spero di poterne anche ecco più tardi eventualmente nelle domande e non rubo ulteriore spazio ai miei colleghi passo a presentarvi la nostra terza e ultima relatrice per questa sessione che è Eleonora Chiais anche lei è ricercatrice all'interno del progetto Nemosancti Eleonora ha un dottorato in linguaggio e in scienze del linguaggio e della comunicazione dell'università che ha ottenuto qui all'università di Torino è autrice di vari saggi specialmente riguardo all'ambito della moda e dei rituali ed è docente di moda e costume e forme e linguaggi della moda sempre presso la nostra università di Torino è autrice di un libro un ebook che si intitola C'era una volta un principe azzurro che rispecchia un altro dei suoi interessi di ricerca che è lo studio sul personaggio e infatti questo saggio è sulla figura del principe azzurro tra racconti e mass media all'interno del progetto si occupa dello studio semiotico dei meccanismi di costruzione della figura dell'eroe in diverse società e in diversi contesti oggi Eleonora ci presenta un intervento intitolato Dante nel Magistero e nella Chiesa Novecentesca grazie Eleonora ti passo subito la parola allora dunque intanto grazie grazie a gente grazie a chi mi ha venuta perché anch'io come i miei della sessione non sono una dantista quindi vi pongo una riflessione che parte dal dall'esterno a differenza da loro tra l'altro io sono estero in questo intervento e quella che può essere esegesi della commedia andando invece a considerare Dante personaggio e nello specifico vi propongo di considerare qui Dante come un testo o per meglio dire come risultato di un percorso di testualizzazione quindi questo è un percorso di costruzione che si basa sostanzialmente su una programmazione che ci permette di tentare di definire il percorso di costruzione del testo Dante come un iter di costruzione di un modello modello che è un modello da prima laico lo vedremo nel nel corso dell'ottocento la cultura laica ha in qualche modo recuperato la figura di Dante contribuendo a darle una nuova linfa e poi è stato invece reinterpretato ripreso diciamo come un modello invece più espressamente cattolico attraverso appunto l'interpretazione che ne è stata proposta dalla chiesa novecentesca pur con un importante prequel nella chiesa ottocentesca quello che sostanzialmente mi piacerebbe raccontarvi qui è il rapporto che lega Dante alla chiesa e nello specifico ai papi che è un rapporto che vi propongo di leggere come il risultato di un percorso fortissimamente passionalizzato tra Dante e l'istituzione ecclesiastica quindi un percorso passionalizzato che è guidato da enunciatori delegati che indirizzano e guidano quindi il lettore del testo Dante creando un effetto di senso l'effetto di senso del testo Dante però è evidentemente in continuo mutamento si modifica nel tempo e si è modificato nel tempo al modificarsi sostanzialmente del contratto di lettura proposto da chi di volta in volta lo vedete nella slide era chiamato ad assolvere il ruolo moralizzatore guidando il fruitore di questo testo verso le giuste risposte emotive verso appunto questo testo Dante in sostanza quindi vi propongo di leggere l'interpretazione proposta del testo Dante come un percorso che sfrutta la categoria timica di euforia parte dalla disforia fino ad arrivare all'euforia pur con un intramezzo in quello che è il termine neutro di questa categoria timica quindi nella diaforia questa tripartizione del successo e della narrazione connessa al personaggio di Dante visto come modello è una tripartizione che per inciso è anche la tripartizione della commedia stessa quindi una disforia che noi possiamo riconoscere nell'inferno una diaforia che possiamo attribuire al paradiso è l'euforia conclusiva paradisiaca diciamo vi ho detto che non ho premesso fin da subito che non sarei nella direzione dell'analisi del testo della commedia vi ricordo solo a livello di premessa che che il rapporto tra i papi e Dante è qualcosa che noi vediamo anche all'interno della dimensione testuale della commedia stessa per cui noi sappiamo che complessivamente Dante colloca sette papi all'interno della sua commedia nessuno di questi papi come è noto si trova in nel nel paradiso ma quattro di questi papi sono collocati all'inferno o comunque sono eh all'inferno o la loro presenza viene anticipata secondo tutto quel meccanismo che è un meccanismo classico della commedia dantesca per cui Dante immagina che alcuni di loro arriveranno all'inferno e ne colloca poi altri tre in purgatorio quindi si passa già in questa prima e soltanto abbozzata idea della rappresentazione papale all'interno della commedia dantesca da una sostanziale disforia quindi dalla collocazione che è una collocazione che vede anche un giudizio e che poi sarà ampiamente ripresa dalle parole dei papi novecenteschi a proposito della commedia vede anche una connotazione negativa a livello proprio personale del poeta Dante si passa a sostanzialmente una aforia con la collocazione di questi tre papi invece in purgatorio di questi tre papi in purgatorio sui quali Dante non ha un giudizio complessivamente negativo ma li colloca appunto in questa situazione intermedia che è una situazione intermedia che abbiamo detto è piuttosto neutrale in in buona sostanza a questa quindi detto questo su quanto riguarda la commedia vediamo invece quello che è un po' il focus di quello che vorrei dirvi qui quindi la ricezione invece del personaggio Dante all'interno della cultura extratestuale diciamo noi sappiamo che inizialmente c'è una forte disforia nella ricezione che dall'istituzione ecclesiastica viene proposta dell'opera dantesca nella sua interezza una disforia che ha il suo apice nella nell'accusa di eresia che viene mossa al demonarchia appunto fin dal 1329 demonarchia che finisce anche nel primo indice dei libri proibiti al nella metà del 1500 dove peraltro rimarrà fino alla fine del XIX secolo vi segnalo che però contemporaneamente se la chiesa di questo periodo storico è una chiesa fortemente disforica in realtà la cultura laica incomincia già a mostrare un certo interesse verso la figura di Dante a partire dall'ottocento quando sostanzialmente in qualche modo la cultura laica provvede a un recupero come già dicevamo di Dante che è un recupero che in un primo momento è un recupero che avviene sostanzialmente in una chiave anticlericale quindi ma che segna ma che per noi è importante perché segna la fase iniziale di un processo che poi raggiungerà il suo apice nel corso del novecento come vedremo ora vi ho detto vi ho anticipato adesso finalmente arrivo che in realtà il mio obiettivo di oggi è quello di vedere la rappresentazione delle parole attraverso le parole dei papi novecenteschi questi papi novecenteschi come appunto già dicevamo hanno un precursore importante di questa che sarà l'euforia novecentesca rispetto alla figura di Dante in leone tredicesimo che nel 1895 in qualche modo interviene per riabilitare all'interno della cornice anche ecclesiastica in senso stretto la figura di Dante questo avviene quando quando viene avviata la costruzione a Ravenna di un mausoleo dedicato a Dante per il quale peraltro lo stesso Vaticano versa un ingente contributo economico contributo economico che leone tredicesimo accompagna da questa lettera con questa lettera rivolta all'arcivescovo Galeati in questa lettera sostanzialmente ci sono già delle dei rimandi che sono dei rimandi strettamente testuali a quello che poi sarà il dantismo papale contemporaneo quindi si parla di Dante come il nostro Dante che è un termine che vedremo ritornerà nostro Dante che finalmente otterrà si legge lo vedete nella slide si legge un mausoleo col contributo di tutti i popoli quindi Dante come modello universale ma che ha una sua particolare importanza una sua particolare rilevanza all'interno proprio della cornice del cristianesimo e infatti la lettera continua sottolineando che per quello che in particolare ci riguarda siamo specialmente mossi e sto citando da riflettere quanto splendido ornamento sia del cristianesimo quindi Dante come un ornamento del cristianesimo Dante è un momento del cristianesimo che però fino a un un attimo prima era fortemente criticato dal cristianesimo stesso nonché l'abbiamo visto fortemente critico rispetto a questo stesso cristianesimo questa critica è qualcosa che appare qui per la prima volta un'analisi diciamo postuma di questa critica appare qui per la prima volta ma verrà poi ripresa anche nella nelle parole dei papi successivi perché appunto qua per la prima volta si parla di questa contrapposizione d'antechiesa e la si giustifica in qualche misura dicendo che e cito ancora quantunque spinto all'ira dalle amarezze dell'esilio e per il spirito di parte errasse talvolta nei suoi giudizi errasse quindi non fu però mai che i fosse di animo avverso alla verità della cristiana sapienza quindi in qualche modo si mettono le basi per tre punti che saranno poi centrali nella nell'euforia novecentesca papale rispetto a dante quindi il primo punto è che dante sia nostro quindi in qualche modo dante come un esempio per la cristianità ma come anche un appannaggio di questa stessa cristianità in seconda battuta come un dante che in qualche modo è stato critico ma queste critiche sono qualcosa di giustificabile con il senno di poi e dall'altra parte il terzo punto come lui fosse tutt'altro che avverso alla verità della cristiana sapienza eh questo questi tre punti tre punti ritornano in quello che è eh l'endorsement diciamo più importante al dante novecentesco quindi quello che spalanca le porte al dante novecentesco interpretato dall'istituzione ecclesiastica siamo nel 1921 Benedetto quindicesimo ehm nella sua enciclica celebra appunto il personaggio di Dante e come lo fa? Lo fa in primo luogo celebrando l'intimo con la cattedra di Pietro e poi lo fa soprattutto definendo Dante come il cantore e l'araldo più eloquente più eloquente del pensiero cristiano quindi Dante come un cattolico modello sostanzialmente come un cattolico modello che per primo è meglio di chi lo seguirà sottointeso in qualche modo prendendo ispirazione dalla fede divina che è qualcosa su cui non si discute esercita in modo esemplare la religione cattolica e utilizza questo suo scritto per questo su scritto che è sostanzialmente un compendio delle leggi divine per glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio anche qui tornano un torna un analisi delle critiche mosse a Dante quindi chi potrebbe negare che in quel tempo vi fossero delle cose da rimproverare al clero in questo senso c'è una nuova forma di giustificazione rispetto a queste critiche mosse da Dante alla chiesa dall'altra parte c'è un tentativo di condannare tutte le critiche invece mosse a Dante concludendo questa enciclica con la considerazione del fatto che coloro che non ne riconoscono il ruolo di araldo del pensiero cristiano mi sconoscono nel poeta sto citando ciò che è caratteristico e fondamento di tutti gli altri suoi pregi quindi un giudizio lo vedete assolutamente positivo proseguo proseguo e arrivo a Paolo VI Paolo VI siamo nel 1965 siamo alla vigilia letteralmente della fine del concilio Vaticano II che si concluderà l'indiromani quindi il giorno dell'immacezione del 1965 Paolo VI ha regalato a tutti i padri conciliari una copia della commedia e con questa lettera apostolica sta istituendo una cattedra in studi danteschi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano questa lettera peraltro si inserisce in un ricco filone di iniziative attraverso le quali Paolo VI per sua stessa ammissione vuole esprimere l'ammirazione sua e di tutta la Chiesa per Dante questa lettera apostolica nello specifico ci interessa per una duplice esaltazione che propone da una parte l'esaltazione della dimensione poetica dall'altra parte quindi della dimensione poetica della commedia da una parte ma del Dante poeta dall'altra parte ma ci interessa anche e soprattutto perché esalta anche la potenza performativa della commedia stessa quindi e questo ci rende abbastanza immediato capire questo percorso dalla disforia all'euforia della quale abbiamo parlato fin dall'inizio quindi in questa in questo scritto in questa in questa lettera apostolica vediamo chiaramente come questo percorso di opposizione etimica sia riscontrabile anche all'interno della commedia quindi dal disordine alla saggezza dal peccato alla santità sono tutti termini che si contrappongono e che necessariamente vengono passionalizzati in maniera negativa completamente negativa da una parte e in maniera invece completamente positiva dall'altra parte ancora Benedetto sedicesimo prima di diventare papa appunto con il nome di Benedetto sedicesimo si riguarda a Dante in quella che è l'introduzione di una sua opera molto nota 1969 e sostanzialmente si concentra sostanzialmente sulla visione finale quindi sulla visione del Cristo fatto uomo della quale ci ha già parlato stavolta il professor Pirovano evidentemente per dimostrare quanto l'attenzione dei papi novecenteschi sia stata su una glorificazione della figura di Dante ci sarebbero anche tanti altri esempi Benedetto sedicesimo stesso tornerà su questo tema Francesco anche citerà Dante spesso e volentieri ma il tempo a mia disposizione è quasi al termine per cui vi propongo alcune conclusioni che sono delle conclusioni evidentemente momentanee che insomma spero di poter discutere con voi allora io fino all'inizio vi ho detto che mi sarebbe piaciuto leggere l'evoluzione del testo Dante del percorso di testualizzazione del personaggio Dante come un percorso della disforia all'euforia e mi sembra che questo sia possibile considerando un percorso che si avvale di una duplice appropriazione da una parte abbiamo un'appropriazione interna al testo quindi la commedia è qualcosa di strettamente umano appunto perché si conclude con questa visione del volto umano che si fa uomo e dunque di Dante in quanto uomo e dunque dell'uomo stesso che appunto è presente nella conclusione della commedia dall'altra parte che è quella che forse ci interessa di più abbiamo invece un'appropriazione esterna al testo quindi Dante come il cantore e l'araldo più eloquente eloquente del pensiero cristiano capace di professare in modo esemplare la religione cattolica quindi un Dante che sostanzialmente è nostro nostro è Dante nostro vogliamo dire della fede cattolica quindi questa doppia appropriazione che ha sicuramente delle giustificazioni politiche quindi che si inserisce in un in un quadro per cui la figura di Dante è una figura che può essere utile alla alla chiesa appunto come istituzione e che in qualche modo si impone proprio all'interno delle parole dei papi anche perché è un processo che in qualche modo è già stata la cultura laica nella cultura laica che abbiamo già detto dalla fine dell'ottocento e ancora oggi ha reso Dante un idolo in qualche modo pop una volontà di celebrare Dante che per inciso è stata anche tentata sulla via con la via della canonizzazione ufficiale quando in ben due occasioni nel 2002 e nel 2007 questo colonnello padovano in pensione ha perorato una causa di beatificazione di Dante causa di beatificazione di Dante che non è andata a buon fine quindi Dante non è un santo nel senso ecclesiastico del termine ma è senz'altro un santo pop quindi nella nostra cultura pop è un santo nella nella misura in cui è senz'altro un modello un modello di comportamento a cui un pubblico molto ampio aspira la gloria degli altari gli è interdetta ma ha comunque molti motivi di soddisfazione personale citando Eco è più difficile finire su Topolino piuttosto che sulla Treccani e Dante su Topolino ci è finito svariate volte ma non solo su Topolino su tanti altri insomma miti del nostro tempo quindi in qualche modo Dante possiamo concludere ha un ha vissuto questo percorso che dalla disforia l'ha portato e a questo punto è senza alcun dubbio un mito contemporaneo nonché un santo inteso come modello sia laico sia insomma quasi interno all'istituzione ecclesiastica vi ringrazio molto per la vostra attenzione all'istituzione Grazie a tutti.